Terra Mara, anticipazioni dal 12 al 14 febbraio, giorno di San Valentino, dove vedremo Hakan fare una dichiarazione meravigliosa a Zuleyya, ma ci sono anche molti personaggi che remano contro e tanti colpi di scena. Bedul con Shermin è andata da Kadir e si lamenta perché Zuleyya le ha messe in imbarazzo davanti a tutti e gli chiede di farla tornare a vivere nella villetta. Kadir le risponde che lui l'aveva avvertita di non sottovalutarla, ma lei aveva risposto che Zuleyya è un ignorante che poteva gestire, mentre Zuleyya è intelligente ed ha sbagliato ad andare ad aggredirla nel circolo cittadino quando sa di essere colpevole. Poi Kadir le dice che con i soldi che ha guadagnato dalle vendite illecite si può trasferire ad Istanbul, trovare un lavoro, comprare una bella casa vicino al mare, dove vivere pacificamente, perché se restano lì Zuleyya le distruggerà. Bedul, infuriata, gli dice che non se ne andrà mai e che si vendicherà di Zuleyya anche senza il suo aiuto, quindi se ne va. Poi Kadir dice a Shermin che devono avere pazienza prima di rientrare nella villa. Nel frattempo Kolak chiede a suo figlio chi è che ha comandato Cukurova in sua assenza. Lui gli risponde la famiglia Yaman, Kondimir, che però è stato ucciso forse da Kang Musoglu, un pericoloso trafficante d'armi. Poi il figlio gli mostra una foto di Zuleyya e lui commenta che è molto bella, che è rimasta sola e ricchissima. Il figlio lo informa che si è affidanzata con Mehmet Kara, un imprenditore di Sparta che ha investito molto a Cukurova e gli mostra una foto di Akan con Kadir. Kolak riconosce Kadir, che è il figlio del contrabbandiere Salma. Poi gli fa vedere una foto di Fikret, dicendogli che possiede tutte le ricchezze di Fekeli ed è il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Kolak asserisce che deve cacciare chi ha preso il suo posto a Cukurova e deve riprendersi ciò che è suo, iniziando da Zuleyya. Kadir, quando arriva in ufficio, dice al fratello che è infastidito sia dal comportamento di Mehmet che da Fikret, che possiede mezza Cukurova e che Betul è stato una sciocca a non sposare, perché avrebbero già iniziato ad impossessarsi delle sue ricchezze. Vahap gli risponde che possono ancora farlo perché lui ha una copia del video che lo incastra. Betul, che stava per andare nel loro ufficio di nascosto, ha ascoltato tutto. Poi, quando li raggiunge, si lamenta che il posto in cui vive è molto umido. Kadir le risponde che ha i soldi per vivere in hotel con la madre. Lei gli ribatte che non può far vedere che li ha quei soldi. Poi gli dice che vuole tornare alla villetta e che gli pagherà un affitto. Kadir le risponde di aspettare che le acque si siano calmate e di resistere. Poi Kadir viene chiamato in officina e Betul, rimasta sola con Vahap, si lamenta delle condizioni in cui è costretta a vivere per colpa di Zuleia. Allora, Vahap le dice che può andare a vivere con lui nella loro casa nel vigneto perché lì nessuno la troverà. Quando Betul torna a casa, dice a Shermin di andare a vivere in hotel ad Antalya, mentre lei resta lì perché ha la possibilità di vendicarsi di Fikret, ma non deve farle domande. Alla villa, Lutfie riceve una telefonata da Bursa che le informa che il figlio di suo marito è morto in un incidente stradale. Lei se ne dispiace profondamente anche perché lascia moglie e due figli piccoli e andrà subito da loro per aiutarli. Lutfie è in partenza per Bursa e saluta Zuleia e Fikret che le dice di regalare la casa che ha a Bursa la vedova perché lei non ne ha bisogno dato che vivrà sempre con lui. Lutfie gli risponde che ha già deciso di donarle tutto quello che il marito le ha lasciato e nessuno è sorpreso della sua grande generosità. Quando Lutfie poi è in macchina con Fikret, lui le dice che ha trovato una casa per loro due, Kerem Ali e Nazire perché non può vivere con Zuleia dopo il matrimonio con Akan e Lutfie è d'accordo. Poi Fikret le dice che Zuleia sta sbagliando a sposarlo, ma la zia gli risponde che Zuleia ama Mehmet e lui deve accettarlo. Nel frattempo Kolak si recala Holding Yaman e con un comportamento prepotente entra nell'ufficio di Zuleia e le dice di essere Asmet Kolak, uno dei signori di Chukurova. Poi le ordina di ridargli le terre che Demir gli ha preso, per cui deve andare subito con lui all'ufficio del Catasto e restituirgli 250 acri di terra e che non le chiederà soldi che ha guadagnato per 18 anni vendendo i prodotti della sua terra. Zuleia, dopo averlo ascoltato, gli dice di andarsene. Lui le ribatte che non lo conosce, ma lei gli risponde che anche lui non la conosce e che si vedranno in tribunale. Zuleia poi racconta tutto ad Hakan, gli dice che l'ha minacciata perché è una donna sola. Hakan le risponde che se ne occuperà lui perché è gente pericolosa, ma lei gli dice di starne fuori. Allora lui le chiede di fissare una data per il loro matrimonio e la accompagna a vedere i terreni dove la loro ditta di costruzioni, Yaman, Cara, sta costruendo delle ville e le dice che una la terranno per loro e le mostra lo spazio dove sorgerà. Zuleia gli risponde che è troppo grande, ma lui le ribatte che saranno una grande famiglia con tanti lavoratori e bambini, perché loro due avranno un bambino e una bambina. Poi le chiede di sposarsi la settimana seguente e lei accetta con un gran sorriso. Nel frattempo il figlio di Kolak porta un gran numero di operai in un agrumeto e ordina di raccogliere tutti i frutti. Gli operai gli dicono che è una proprietà degli Yaman, ma lui ribatte che non deve interessargli a chi appartiene, ma di lavorare se vogliono essere pagati. Betul si è trasferita a casa di Vahap e lui le offre del vino di benvenuto. Poi quando lui si allontana un attimo, Betul gli mette del sonnifero nel bicchiere. Quando lui torna, iniziano a bere, lei gli chiede come ha fatto a fare il video che ha mostrato a lei e a Lutfie, lui le spiega come hanno ingannato Fikret e di aver poi montato i fotogrammi del filmino al contrario per far sembrare che lui sia colpevole. Betul gli chiede di farglielo rivedere e mostrarle come ha fatto. Vahap accetta e glielo proietta. Nel frattempo, Sanye e Ghaffur con Uzum vanno da Gulten e Chetin a vedere la bellissima culla che lui sta costruendo per il loro bambino. Poi Sanye regara a Gulten il corredino che aveva preparato per il suo bambino mai nato e le dice che adesso non le serve più perché ha una bella bambina. Gulten la ringrazia commossa e tutti sono felici per l'arrivo del bambino. Il sonnifero che Betul ha messo nel bicchiere di Vahap ha fatto effetto e lui si è addormentato. Allora Betul gli ruba il disco e se ne va. Salita in macchina, dice che adesso Fikret la pagherà per averla abbandonata. Alla villa, un uomo avvisa Sanye che gli uomini di Kolak hanno rubato tutti gli agrumi dei loro frutteti. Sanye riferisce a Zuleia del furto di Kolak e le dice che devono reagire immediatamente altrimenti continuerà a fare quello che vuole. Zuleia le risponde che lo denuncerà. Il mattino seguente Vahap si sveglia con un gran mal di testa e cerca Betul. Poi si accorge che gli ha rubato il nastro e subito esce di casa dicendo che il fratello lo ucciderà. Poi va a cercare Betul nella sua casa ma una vicina gli dice che Betul e la madre se ne sono già andate da due giorni. Nel frattempo Betul si reca in un ufficio postale e spedisce il disco. Contemporaneamente, mentre Zuleia e Dakan sono al circolo e stanno scrivendo gli inviti per il loro matrimonio entra Fikret e Zuleia subito gliene dà uno. Fikret però le dice che non andrà al suo matrimonio perché lei sta sbagliando a sposare Mehmet che la farà soffrire. Zuleia ne è molto dispiaciuta e gli chiede se non vuole che sia felice. Lui le risponde di sì ma non insieme a quell'uomo. Più tardi Fikret si reca alla villa e dice a Sani di preparare le cose di Kerem Ali perché lo porterà via con lui e la ringrazia per come se ne è presa cura. Lei è dispiaciuta allora lui le dice che Zuleia si sposerà con Mehmet Cara e Kerem Ali non può più stare lì. Quando Zuleia torna a casa e vede che Fikret ha portato via Kerem Ali è molto triste e dice a Gulten che le mancherà tanto. È giunto il giorno del matrimonio di Zuleia e Akan e Zuleia si sta preparando nella sua camera ed è bellissima. Nel frattempo Sanie ha portato Gulten a vedere la sua nuova casa e le dice che Zuleia si sposerà quel giorno e che lei lascerà la villa perché anche se Cennata e Unkar e Demir oltre che i suoi signori sono stati la sua famiglia non trova opportuno restare lì adesso che Mehmet ne diventerà il nuovo padrone anche perché lui a lei non piace. Intanto al procuratore arriva il disco spedito in anonimo da Betul con un biglietto nel quale è scritto che nel disco c'è la prova che Fikret fei che lì contrabbanda con le sostanze stupefacenti. Il procuratore è molto sorpreso e subito si mette a visionarlo. Terminano così queste anticipazioni Betul sta riuscendo ad incastrare Fikret mentre Zuleia è in bilico tra il suo sogno d'amore e questo nuovo cattivo personaggio che è entrato nella sua vita. Vedremo come si evolverà la storia nelle giornate di giovedì dove vi ricordo che ci sarà anche il serale e in quelle successive di venerdì e sabato. Io sono Stefania vi mando un abbraccio e vi aspetto nei commenti per parlare insieme di tutto quello che abbiamo visto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.